Argomento senz'altro Uomini e Donne, signori, si parla di lei, si parla di Roberta Di Padua, perché c'è stata una segnalazione abbastanza potente sulla sua presunta frequentazione con l'ex di Uomini e Donne, soprattutto a fronte delle ultime vicende, delle ultime cose successe dove entrambi sono stati e sono grandi protagonisti. Anche se Uomini e Donne è sicuramente stato archiviato al momento, le notizie e le indiscrezioni sui volti del programma di certo non mancano. Proprio di recente, tanto per fare un esempio, ben un paio di storie appena nate sono già finite e a poco dalla scelta si sono già lasciati Luca D'Affrè e Alessandra Somensi e anche Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, insomma due coppie scoppiate. Proprio con la tronista Roberta Di Padua si è spesso attaccata. Anche a distanza, ora che la sua relazione è naufragata. La dama non ha mai creduto nella buona fede di Nicole e il fatto che la sua storia con Carlo Alberto sia già finita è un chiaro segno che aveva ragione lei, sostiene. In studio le due più e più volte hanno discusso punto e poi la ex di Riccardo Guarnieri non ha mai nascosto un certo interesse per Andrea Foriglio. Andrea Foriglio è il corteggiatore scartato da Nicole Santinelli. E già dopo la non scelta, appena terminato il dating show di Maria De Filippi, sia lui che Roberta Di Padua sono stati intervistati. Lei ha rivelato che non lo avrebbe mai cercato per prima dopo aver ricevuto il due di picche in studio. L'ex corteggiatore, che ha già smentito una possibile frequentazione con Nicole Santinelli perché non vuole essere la seconda scelta di nessuno, aveva spiegato che in questo momento stava metabolizzando quanto accaduto ma aveva anche aggiunto mai dire mai. E se già qualche giorno fa era arrivata qualche storia sospetta di entrambi, ora lui e Roberta si starebbero sentendo. Ex corteggiatore e dama del Trono Over si sentono da un po'. Ma non lo dicono perché lui ha trenta anni e lei quaranta. Ma soprattutto perché lei non vuole perdere la poltrona della prossima stagione, riportano gli esperti di gossip Amedeo Venza e Dejanira Marzano. E ancora Dejanira, Andrea e la Di Padua si sentono. Non resta che aspettare la versione dei diretti interessati. Vi saluto, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.